Le aziende di tutta la Sicilia hanno chiesto di far salire i loro brand, di farli diventare importanti e noi ci impegniamo facendo degli spot pubblicitari qui su questo palco. Abbiamo due attori che adesso ti aiuteranno a portare avanti questo copione, ce l'abbiamo. Salve, buonasera. Gabriel Sgracco, nice to meet you. Lei ha già... Pei ha già fatto l'attore? Sì, ho fatto un film dove mia madre mi metteva dieta e per mangiare andavo dalla signora al piano di sotto. Che film è? Giù mangi. Vabbè, lei non sarà solo a fare questo spot perché ci sarà una persona. Parlerò... Allora, lascia. Deve fare lo spot di questo... Deve stare tranquillo, noi dobbiamo lavorare, va bene? Siamo quasi. Allora, dobbiamo pubblicizzare questo brand, è una zuppa di fagioli. Una zuppa, sì. Che la sa lei? Vi faccio parlare. Sì, vi faccio parlare. Intanto si conosce quell'altro attore? Gabriel Sgracco, nice to meet you. Cioè, nell'attore da metto io. Ma io cosa stai facendo? Che schifo, allora... E l'ho pulito. Allora, lo spot va così, lei dovrà dire assaggi questi fagioli, sarà una festa. Adesso faccio entrare i fagioli, lei stia tranquillo. No, Gianni. Sto Gianni, sto... Questo qua devo prendere io. Questi sono i fagioli. Ripeta, assaggi questi fagioli, sarà una festa. Sì, va bene. Sono bello e di buon umore perché a letto durò anche sei ore. Sono bello e di buon umore perché mi hanno regalato un vibratore. Cos'è giusto? No, allora, mi dovete fare una cortesia voi ragazzi, dobbiamo lavorare. Ho di spagnare. Lavorare. Se è spento. Ripeta questa frase con me. Assaggi questi fagioli, sarà una festa. Sarà una festa, bravo. Lei questa zuppa fa saziare. Questa zuppa fa saziare. Allora, lei deve smettere di fare il cartone. Questa zuppa fa saziare. Deve smetterla di fare... Questa zuppa fa saziare. Normale. Questa zuppa fa... Senza le mani. Questa zuppa fa saziare. Meglio così, allora. Che sta facendo? Non mangi questi fagioli. Non si mangia. Non li deve mangiare i fagioli. No, no, no. Assaggi, 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 sono buone. Vuole uno. Che schifo, allora. Questi sono fagioli e... Sono fagioli e non si mangia, non si mangia. Eh, non si mangia. Assaggi questi fagioli... Questa zuppa fa saziare. Lei deve smetterli di fare i balletti. È che vi piace. Questa zuppa fa saziare. Normale, questa zuppa fa saziare. Basta, non deve mangiare. Dai, forse. Assaggi questi fagioli, sarà una festa. Questa zuppa fa saziare. Che sta facendo? C'è una puzza incredibile. Non ce l'ho stata, io non ce l'ho stata. Allora, questa zuppa fa saziare. Questa zuppa fa saziare. Ma che lei non ne deve mangiare questi fagioli. Ah, non si mangia. Pagioli sono lassati. Non si mangia. Non fa male, no. Qua si mangia. Non si mangia. Questi fagioli sarà una festa. Questa zuppa fa saziare. Lei deve smettere di fare il ballerino. Abbiamo chiesto una cosa. Questa zuppa fa saziare. Questa zuppa fa saziare. Ok, meglio così. Ne speciamo però per favore. che sta facendo? Possiamo fare veloce. Che cosa si fa? Si mangia i fagioli? Non li deve mangiare questi fagioli. No, non lo mangio tutti veloce. Stanno facendo il fiat. Allora. Io lo dico a lui. Allora, si entra qua, assaggi questi fagioli. Sarà una festa. Questa zuppa fa saziare. Ma facciamo una cosa veloce. Ma c'è una puzza incredibile. Ma scorre già, ma che ha fatto? No, no, un pochettino così. Non lo sono stato io, però. Io dirò fagioli siciliani. Di cos'altro avrai bisogno. Spingiate però. La ragazza, allora. Proviamo, dai. Allora, provi lei con la battuta. Non stia piegato così. Si sa la finta sta. Facciamo quattro, 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 quattro. Si è in piedi, dritto. In piedi. Allora, assaggi questi fagioli. Sarà una festa. Questa zuppa fa saziare. Allora. Allora, assaggi questi fagioli. Sarà una festa. E quanto ci penso io? Allora. Dobbiamo lavorare, lavorare. Questa zuppa fa saziare. Devi aspettare lei per dirlo. Spingiate! Spingiate! Allora. Vada, vada. Assaggi questi fagioli. Sarà una festa. Questa zuppa fa scorreggiare. No, fa saziare. Vada, vada, vada. Questa zuppa fa saziare. Allora, lo dice da segnale. Allora, fai quella terza. Allora. Allora, assaggi questi fagioli. Sarà una festa. Questa zuppa fa saziare. Fagioli siciliani. Di cos'altro hai bisogno? Parima da Napolese. Parima da Napolese. Parima da Napoli. Parima da Napoli. Va bene.